Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video e oggi sono qui insieme a, aiuto, a Gioia e qui a farci compagnia, così te la posso anche far vedere visto che da un sacco di tempo che non si vede qui su Youtube, vero piccolina tra l'altro da pochissimo, da pochi giorni ha compiuto un anno, il 30 agosto abbiamo festeggiato anche con mio papà, perché anche mio papà compie gli anni proprio il 30 agosto quindi abbiamo fatto una grande festa, un po' stanca adesso chiudo gli occhietti, comunque eccola qua, devo dire che rispetto alla prima volta che ve l'ho fatta vedere è cresciuta parecchio comunque in questo video torno con un video haul che non registro davvero da un sacco di tempo qui sul mio canale, mi piacerebbe andare a vedere qual è stato l'ultimo video haul che ho registrato per quanto riguarda i vestiti, credo che siano passati più di tre mesi perché davvero da un sacco di tempo che non faccio più nessun acquisto online non compro più nei negozi, sono davvero troppo brava però adesso arriva l'autunno e quindi ovviamente arriva anche un pochettino di shopping e non vedo l'ora di andare per i negozi e vedere qualcosina di nuovo per la stagione autunnale comunque i capi che vi mostro adesso in questo video mi sono stimandati dal sito Shikel, che vi lascio scritto qua sotto nell'info box è un brand svedese, un e-commerce svedese che ho conosciuto su Instagram mi era già capitato di vedere un po' dei loro capi su Instagram però non avevo mai acquistato sul loro sito, non avevo mai provato niente e sono rimasta davvero molto molto contenta vi dico subito che i colori che vedrete in questo video sono il bianco e il rosa i colori dei capi che ho scelto in questo periodo, amo questi due colori prima di partire e mostrarvi quindi i capi che ho scelto che ovviamente troverete qua sotto nell'info box i vari link vi dico che questo sito, questo e-commerce ha vinto l'ultimo concorso a Barcellona del 2017 e in passato questo concorso era stato vinto da Asos, da Adidas, da Zalando quindi vi parlo, vi sto parlando davvero di un sito molto molto valido la qualità di questi capi è davvero molto buona ai livelli di Asos i prezzi sono un pochettino più alti magari dei siti con cui sono solita a collaborare come ad esempio i siti asiatici questi sono, la qualità dei loro capi è molto più alta però di conseguenza anche i prezzi sono leggermente più alti comunque vi lascio scritto tutto qua sotto così almeno sapete tutto quanto parto da uno dei miei capi preferiti tra tutti quelli che ho scelto è questa blusa come vi dicevo l'ho scelta in bianco però c'è anche in altri colori è una blusa che resta davvero molto molto aderente al corpo con lo scollo a V sia nella parte davanti che sulla schiena ovviamente tutti hanno la loro etichetta c'è tutto proprio perfetto cartellino come trovate in negozio questo non ricordo male è taglia unica e mi piace tantissimo l'ho già indossata l'ho già provata cioè l'ho già indossata l'ho già provata ovviamente prima di parlarvene e secondo me questa blusa che ha manica lunga quindi perfetta per l'autunno sta bene con una guanna vita alta con dei jeans a vita alta perché è davvero bellissima e poi secondo me questa blusa è molto bella anche indossata con una spalla scoperta tipo in questo modo qui a me piace molto indossare queste magliettine che lasciano magari un pochettino di spalla scoperta le trovo davvero molto belle e mi piace mi piace un sacco mi piace la qualità veste benissimo è bella stretta sul corpo però non dà fastidio non è troppo aderente segue bene le linee del corpo davvero super super approvata mi piace tantissimo ed è proprio morbida cioè mi piacerebbe un sacco farvela sentire perché il tessuto di questo maglioncino è davvero super super morbido passo al secondo capo anche questo capo è per la parte superiore e ho scelto un maglioncino un semplicissimo maglioncino oversize forse anche questo era in taglia unica forse adesso mi viene il dubbio che la taglia unica era del maglioncino e non della blusa che ho fatto vedere prima però non mi ricordo e qui sull'etichetta non c'è scritto quindi controllate l'info box ho appunto scelto un maglioncino molto molto morbido tiene un sacco di caldo però è uno di quei maglioncini che non pizzicano io odio non sopporto quei maglioncini che ingrossati vanno a pizzicare tutta la pelle cioè non li sopporto proprio questo invece è super super morbido è decisamente oversize quindi cade bello morbido questo non è cortissimo però non è neanche troppo lungo sta bene con dei jeans a vita alta con dei jeans skinny mi piace mi piace molto questo costava se non ricordo male sui 40 euro la cosa che sicuramente mi ha colpito in positivo di questo sito è stata proprio la qualità dei tessuti perché sono davvero di ottima ottima qualità sono rimasta super contenta è uno dei siti migliori con cui io abbia mai collaborato per quanto riguarda i vestiti si è decisamente il migliore perché davvero super top inoltre mi stavo dimenticando ho un codice sconto per voi del 15% che è valido soltanto per 5 giorni quindi al momento della pubblicazione di questo video il codice sconto sarà valido per i successivi 5 giorni poi terminerà quindi se mi piacciono i capi se c'è qualcosa che vi piace sul loro sito approfittatene io non ci guadagno nulla questo video non è sponsorizzato però insomma ci tengo a farvi avere questo codice sconto e aspettate ve lo sono assegnata shop new 15 comunque ve lo lascio scritto anche qui sotto inoltre un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi è la spedizione spediscono con DHL e in 1 barra 3 giorni lavorativi avete il pacco a casa io ho ordinato sul sito se non ricordo male lunedì e mercoledì avevo già i capi a casa quindi davvero super super veloce la spedizione cosa fantastica perché odio quando ordino online e poi devo aspettare un'eternità per ricevere il pacco mi piace ordinare e poi avere subito nel giro di pochi giorni le cose a casa comunque passiamo al terzo capo ho scelto questi pantaloni di questo modello c'erano due colorazioni così rosa e se non ricordo male tipo sul grigio però non ne sono sicura sono a vita alta c'è questa cintura questo nastrino che si lega in vita a righe bianche e rosa se non so quanto riesco a farvi vedere ecco una cosa del genere questi li ho presi in taglia in taglia 36 e sono perfetti sono perfetti sia di vita che di lunghezza restano leggermente sopra la caviglia e sono dei pantaloni che cadono morbidi sono super eleganti secondo me questi indossati con una camicetta bianca all'interno dei pantaloni con un po' magari di pizzo di volante secondo me stanno benissimo anche per una cresima per una cerimonia un battesimo matrimonio secondo me sono dei pantaloni davvero che meritano questo color rosa antico dietro sono semplici sono fatti in questo modo cadono appunto belli morbidi e mi piacciono mi piace il tessuto mi piace come vestono davvero merita non so ancora non voglio stropicciarli troppo aiuto ok mi piacciono mi piacciono tanto e non contenta ho scelto un altro paio di pantaloni un pantalone culotte stavolta in questo modello l'ho scelto in bianco c'era anche nero però io l'ho preferito in bianco anche di questo ho preso la taglia 36 l'unica cosa che ho notato di questo pantalone che a differenza di quello rosa è sempre vita alta perfetto in vita come misura questi sono molto ma molto più larghi molto più comodi questi secondo me sono bellissimi sia con dei tacchi che con delle ballerine ma anche con delle sneakers per un look più sportivo l'unica cosa tra virgolette negativa di questi pantaloni è che sono leggermente leggermente trasparenti quindi si vedono un pochettino le mutande se si indossano le mutande scure qui si vedono ecco l'unica cosa che ho notato è stata quella però per il resto sono davvero anche questi di ottima qualità sembrano decisamente dei pantaloni presi da Zara cioè fantastici ok cerchiamo di non stropicciare anche quei resti mettiamoli belli comodi così ok niente questi sono i capi che ho scelto dal sito Shikel che appunto vi lascio questo nell'info box andate a dare un'occhiata fatemi sapere se c'è qualcosa che vi piace io ho adorato un sacco le cose che ci sono su questo sito e sono stata davvero come vi dicevo prima molto molto contenta perché i vestiti sono di ottima qualità quindi si questo è decisamente un sito che vi consiglio perché ci sono cose davvero davvero belle quindi merita sicuramente una visita se volete vedere altri video di questo genere mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video e io e Gioia vi salutiamo vi mandiamo un grosso bacione vero? alla prossima ciao